Iorio, Umberto, Marino, c'è un corridoio, poi arretra il passaggio, Iorio Umberto fa a Melina adesso la compagine della Virtus Campania tentando di ammorbidire il gioco e realizza l'ottavo gol con Sessa, Sessa realizza l'ottavo gol, 8 a 3 grande azione, grande iniziativa, una giocata tutta di prima partendo dalla metà campo e in questo modo distanzia il risultato di 5 punti dallo Sporting San Pietro Calcio Magna 8, poi dobbiamo verificare il recupero ed ecco il nono gol del numero 7 Taddeo